C'era ansia per i risultati dei tamponi effettuati nella casa di riposo di Vallo della Lucania dopo che una delle infermiere presenti nella struttura è risultata positiva al coronavirus. Positività emersa in seguito ai tamponi di screening abituali che vengono attuati nella RSA di massa. Fortunatamente i tamponi molecolari effettuati sugli altri addetti e sugli ospiti della struttura sono risultati tutti negativi, permettendo così di far rimanere isolato il caso dell'infermiera. A Vallo della Lucania attualmente sono 23 i casi di covid, nel resto del Cilento 45 contagi ad Agropoli, 52 a Capaccio Pestum, 20 a Castellabate, 3 i decessi nelle ultime 24 ore dopo la morte dell'ottantenne ad Agropoli, decessi a causa del coronavirus anche nel comune di Pirdifumo e purtroppo anche a Novivelia.